Ciao, buona domenica da Better World Jenny. Oggi vi disturbo dalla vostra routine per mostrarvi un'offerta molto semplice e vantaggiosa su Amazon che vale fino al 2 marzo. In pratica fino al 2 marzo, se acquistate almeno 20 euro di libri dal link che poi metterò in descrizione, riceverete in omaggio per email un buono da 7 euro da spendere su articoli venduti e spediti da Amazon entro il 17 aprile. Ma andiamo un attimino a vedere. Una volta cliccato sul link che metterò io qua in descrizione, potete consultare i termini e condizioni e leggere tranquillamente come funziona. Io adesso cercherò di spiegarvelo in modo più chiaro e sintetico. Non è niente di insormontabile, semplicemente scegliete i libri che preferite da questa pagina. Ecco qua, vedete, da questa pagina che sono fra l'altro tantissimi. Li mettete nel carrello. Una volta raggiunti 20 euro, quindi magari due libri di solito bastano. E li acquistate. Dopodiché riceverete per email un buono da 7 euro che potete sfruttare per comprare qualsiasi altra cosa purché sia spedito da Amazon. Quindi non siete obbligati a ricomprare altri libri. Se avete dei dubbi, per esempio, dite, ah ma guarda io voglio sapere se il libro che voglio comprare effettivamente aderisce alla promozione. Andiamo a vedere quello dei me contro te, per esempio, che adesso tutti i bambini vanno matti. Io non lo so, vabbè, andiamo a vedere. Vedete, comunque, Amazon è anche in offerta. Andiamo sotto, basta scendere. Vedete, dopo il prezzo e tutto quanto, la descrizione, vedete, offerte speciali per questo articolo. Ci clicchiamo sopra. Esce fuori il festo del libro fino al 2 marzo per acquisiti almeno 20. In un'ampia selezione di libri ti regaliamo un buono del valore di 7 euro. Quindi siete sicuri che questo libro aderisce alla promozione. Lo mettete nel carrello, lo ordinate e ricordatevi l'unica cosa è di disattivare, se la avete attiva, l'opzione one click. Quindi prendete, mettetela in carrello e poi fate la spedizione in un unico indirizzo. Quindi dovete spendere 20 euro e fatevelo spedire tutto allo stesso indirizzo, altrimenti non vale. Come vedete, il catalogo è ampissimo. E niente, vi saluto perché il video è brevissimo e l'offerta è talmente vantaggiosa e semplice che c'è pochissimo da spiegare. Vi ricordo che mi trovate anche sul nuovo canale, nuovo gruppo Facebook, che metterò sempre qua in descrizione. E che per qualsiasi cosa potete iscrivermi. E ecco qua, vedete, Fahrenheit 451, un altro classico. Al prossimo video e buona domenica!